C'è stato già reso pubblico, però se ne ha avuto già una diffusione adeguata, che abbiamo ottenuto come ABC, Acqua Bene Comune, la nostra azienda dell'acqua, un premio, il premio Natura 2017 per il comitato organizzatore, che è il premio Presidente Gruppo Atlante di Jacopo Ci tengo perché? Perché è un premio particolarmente prestigioso, dato da una giuria molto autorevole di ovviamente componenti della giuria, più 10.000 cittadini che votano ed è la prima volta che viene dato ad un ente pubblico di queste dimensioni e per un'azienda, tra l'altro su un tema a cui noi crediamo tantissimo, che è l'acqua bene comune. Quindi volevo ringraziare ovviamente la giuria, gli italiani che ci hanno votato e siamo particolarmente orgogliosi anche per l'autorevolezza di Jacopo Fo e perché siamo l'unica città d'Italia che ha onorato il referendum sull'acqua pubblica, trasformando una SPA in ABC, Acqua Bene Comune, azienda tutta speciale, che tra l'altro, lo voglio ricordare, fa anche utili e quindi è anche una buona operazione in un momento di crisi delle risorse economiche. Ci tenevo a dare anche io personalmente pubblicità a questo premio che si merita la città.